Musica Buongiorno bambini e bambine, oggi insieme vedremo quanto è importante lavarsi accuratamente le mani. Quindi scopriremo, come abbiamo letto stamattina, quanto il sapone è un nostro alleato contro i cattivissimi virus. Avremo bisogno di pochissimi oggetti e ingredienti. Una coppetta o un recipiente di plastica, della semplice acqua da rubinetto, del pepe da cucina e del sapone liquido. Proviamo? Allora, basterà riempire la nostra coppetta o contenitore con dell'acqua. Inserire all'interno il pepe che sarà con i nostri virus, quelli che di solito non vediamo perché sono piccolissimi, ma si trovano sulle nostre mani. Eccoli qua. Possiamo vedere che, inserendo le nostre dita all'interno, il virus rimane appiccicato sulle mani. Se invece però, alle nostre mani, applichiamo il nostro sapone liquido, vediamo cosa succede. Il virus scappa via. E così appunto che il sapone riesce a scacciare via tutti i virus. Quindi bambini, mi raccomando, ricordate sempre di lavare le mani, lavarle bene e di lavarle spesso. A presto!